Una Fiat Punto tira dritta una curva, fa un volo di 10 metri fra i canneti, rovesciandosi e non lasciando scampo ad una giovane donna, morta in un campo a pochi metri dal torrente Tavollo. La vittima è Erika Mammarella, 35enne, residente a Tavuglia. Un incidente mortale che è avvenuto a cavallo fra Romagna e Marche, al confine fra i territori comunali di San Giovanni Marignano e Tavuglia, precisamente in via Melareto, all'intersezione con via Tavuglia. Una tragedia che si attorna di una componente di mistero, perché l'incidente è avvenuto all'alba, attorno alle 4.30, come immortalato anche da alcune videocamere di sorveglianza, ma solo dopo 14 ore, nel tardo pomeriggio, è scattata la segnalazione ai carabinieri. Ovvero dopo che il proprietario del campo si è recato sul terreno, accorgendosi di quella punto rovesciata tra i canneti. Sul posto sono intervenuti carabinieri di Cattolica per i rilievi e le indagini del caso, così come i vigili del fuoco per liberare il corpo senza vita dall'abitacolo. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che la conducente sia stata protagonista del sinistro in solitaria senza il coinvolgimento di altri mezzi. Più difficoltà nel riconoscimento delle generalità della donna, che a quanto pare non aveva documenti, al di là dell'intestazione dell'auto ad un residente di Tavuglia. È stata poi riconosciuta come Erika Mammarella, 35enne, residente nel comune marchigiano, che proprio verso Tavuglia, dove viveva sola, si stava dirigendo nella notte con l'auto, rincasando da un turno di lavoro al locale Piccadilli di Cattolica.